Costruiamo il tuo futuro con l'ISIS Ruggero di Lauria. La nostra offerta formativa ti consente di investire nel tuo domani. Un'opportunità per acquisire competenze nel settore amministrativo e fiscale, da spendere nel pubblico e nel privato. Se ti piace lavorare con gli altri e per gli altri, scegli l'area sociosanitaria, un indirizzo innovativo che spazia dalla psicologia alla cultura medico-sanitaria. Ti consentirà di lavorare scuole, ospedali, centri educativi ed assistenziali. Il nostro istituto statale è completamente gratuito. Se ti piace lavorare a contatto con la natura, scegli l'istituto agrario. Ti offrirà competenze per fornire consulenze alle aziende e operare nel turismo locale. Se sei dotato di abilità manuali e appassionato di elettrotecnica, elettronica e meccanica, scegli l'istituto professionale di stato di Lauria. Acquisirai le competenze per realizzare e collaudare ambienti e sistemi tecnici. Potrai esprimere la tua creatività in tutti i settori tecnologici, in particolare in domotica, energie alternative e saldatura. Costruisci il tuo futuro con l'ISIS Ruggero di Lauria. Grazie a tutti!